Siamo molto contenti per la vittoria, ma soprattutto per i rientri che dopo qualche infortunio che abbiamo avuto con per esempio Grenianin e l'incorporazione di Checco che dà anche una spinta in più al pacchetto di Mischia. Adesso come squadra stiamo ancora caricando per raggiungere il nostro obiettivo di arrivare al top per i play-off. Speriamo di continuare così e non avere il minimo possibile di infortuni. Per adesso continuiamo a recuperare la gente e speriamo di continuare così su questa strada. Tornare a Modena è sempre una gran bella esperienza, ritrovare un bel gruppo di amici sia fuori dal campo che dentro. Quindi è sempre una bella esperienza e una grande emozione. Oggi è andata bene, è un bel gruppo, ho trovato dei ragazzi giovani cresciuti, specialmente venturelli, l'ho visto bene, in grande forma. Un sacco di novità dalla giovanile, quindi credo sia un grosso premio per la società Modena Rugby che ha lavorato negli anni con i giovani, continua a lavorare, crede nei giovani e li fa giocare. E credo che questo gruppo di ragazzi, che sono tanti, sta premendo il lavoro della società Modena Rugby. Poi ci siamo noi, io e altri un po' più di esperienza, chiediamo una mano nella crescita e speriamo un ottimo traguardo che è la Serie A. Allora, è stata una partita intensa, soprattutto nel primo tempo in cui ci sono stati degli avversari che si sono fatti valere molto, sono stati al limite del regolamento, però aggressivi e ci hanno dato un po' di difficoltà. Dopo abbiamo iniziato ad aumentare il ritmo, abbiamo fatto sentire il nostro gioco e siamo riusciti a portare a casa il risultato abbastanza bene. Unica pecca, la prima meta che abbiamo subito, per colpa mia, e che non sono riuscito a placare l'uomo. Per il resto i ragazzi si sono comparati molto bene, la panchina quando abbiamo fatto i cambi è stata eccezionale, abbiamo giocato tutti quanti, abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ci siamo anche in parte riusciti e possiamo dire di essere abbastanza contenti a questo punto del campionato. Ci rimangono le ultime partite, adesso vediamo di arrivare in forma e tutti tonici per sperare nei play-off. Grazie. 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 Grazie.